Sanità Campania a testa alta recita così il manifesto che è spuntato di fronte all'ormai chiuso ospedale civile di Agropoli e che sta facendo discutere in città proprio dopo la mancata presenza del governatore De Luca ad Agropoli per un invito istituzionale. Il consigliere di minoranza Agostino Abate è intervenuto sulla vicenda definendo il manifesto come uno schiaffo ai cittadini e inoltre ha dichiarato di essersi recato dai vigili urbani agropolesi per un accertamento sulla legittimità dell'affissione e in seguito alle verifiche sono risultati sprovvisti di licenza e di pagamento delle tasse sia il supporto che il manifesto, probabilmente in giornata i vigili urbani di Agropoli provvederanno alla rimozione. Quel manifesto che tutti quanti i cittadini di Agropoli ne hanno avuto modo ormai di vedere in cui si inneggia al grande risultato ottenuto nella sanità campania da parte del governatore De Luca. Perché? Perché quel manifesto è uno schiaffo, uno schiaffo a tutta la città, a tutti i cittadini, soprattutto a coloro, a quelle famiglie che hanno subito delle perdite a causa della mancanza di pronto soccorso ad Agropoli. Quindi non ho potuto dormire perché effettivamente la cosa è esagerata. Non ho potuto dormire perché mi è venuto in mente qualcosa, cioè qualcosa che poteva essere relativo all'autorizzazione di quel manifesto. E di fatti mi sono regalato nel comando i vigili urbani di prima mattina, ho sollecitato un accertamento e prontamente, devo dire la verità, prontamente i vigili urbani si sono mossi e stanno facendo gli accertamenti del caso. Sembra già da un primo accertamento veloce, abbastanza, diciamo, rapido, che sia il supporto e sia il manifesto siano affetti praticamente da illegittimità. Illegittimità oppure da scadenze, cioè il supporto molto probabilmente è scaduto nella sua autorizzazione e il manifesto che è stato affisso quasi sicuramente non ha pagato nessuna tassa di affissione e quindi di conseguenza non è autorizzato. Quindi ne ho chiesto l'immediata rimozione, l'immediata rimozione che penso che in giornata dovrebbe avvenire. Questo è quanto ho da dichiarare ai cittadini di Agropoli, dicendo loro ancora una volta coraggio, ce la faremo praticamente a far riaprire il nostro pronto soccorso e a far sì che tutte le fesserie, perché questa è la parola adatta che io posso dire, che si dicono sull'ospedale di Agropoli possono avere fine. Questo manifesto sarà stato affisso in tutta la regione Campania, soltanto però che per Agropoli bisognava avere un accorgimento particolare, cioè chi ha fatto affiggere il manifesto e chi ha predisposto praticamente alla fissione di questo manifesto avrebbe dovuto tenere conto della situazione di Agropoli e quindi porre attenzione, dice facciamo tutto questo in regione Campania perché devo fare propaganda politica, ma ad Agropoli stiamo attenti perché Agropoli hanno il dente avvelenato e penso che questo dente avvelenato non passerà tanto facilmente, soprattutto per questa campagna di elezione regionale. Si parlava di un servizio H24, si parlava di tante altre organizzazioni interne da promuovere, ma sono ferme tutte quante al palo. Sappiamo benissimo che quel poco che c'è dell'ospedale ben venga, cioè nel senso che noi accettiamo già quel poco che c'è, però stiamo sicuramente incazzati neri per quanto riguarda le promesse fatte nella scorsa campagna elettorale regionale mai mantenute. Questo documenta una cosa Gianni, documenta che se fino ad oggi queste promesse non sono state mai mantenute, vuol dire che evidentemente chi all'origine fece quel provvedimento di smandellare questi ospedali in provincia di Salerno e in tutta la regione Campania, molto probabilmente l'aveva fatto per un rientro economico e potevano essere pur legittime, però solo perché Agropoli evidentemente non si era ribellata, venne soppresso solo e soltanto l'ospedale di Agropoli. Non ritorniamo indietro, non voglio sapere destra, sinistra o centro, voglio solo sapere una cosa, che il nostro territorio ha una potenzialità intrinseca tale che non può essere dimenticato da un pronto soccorso. L'ho detto anche l'altra volta, se la rete ospedaliera ha voluto che in altre località fossero presenti gli ospedali ed Agropoli ancora no, questo vuol dire che all'attualità dobbiamo pensare una riconversione della rete sanitaria mano a mano progressivamente verso un territorio che ne ha necessità, che ne ha le capacità, che ne ha le esigenze, quindi bisogna pensare a questo, cosa che fino ad oggi non è stato mai pensato. Agropoli in questo momento ha necessità di avere almeno un pronto soccorso attivo dotato di tutte le attrezzature necessarie per far sì che la vita umana possa essere salvata in caso di ictus o in caso di infarto, le solite cose che abbiamo sempre detto. Poi dopo di che le altre sedi ospedalieri che dovranno ospitare reparti di degenza benvenga praticamente la loro sede, dove già stanno, ma Agropoli ha bisogno di un pronto soccorso attivo funzionante H24.